ma no comunque avevo detto che non doveva piovere effettivamente non piove nevica direttamente da con lo smanica con lo smanicato oggi deve fare bel tempo ricordiamo le citazioni un gaffano bigliette con qual è preciso non ho fatto l'altro eccolo è la stessa cosa eh ho capito mi chiediamo una cosa ma dove non sono più arrivati la situazione sta degenerando pericolosamente io da grande che mi hanno perché mi ha a ruole quello nei carabinieri farò le misure speciale no cioè avrei capito cioè hai capito ma io ho un cazzo di compleanno che non chiamano al bar si ma lo so ma voi dove andrea attenzione andrea che c'è uno che sta passando avanti andrea troppa gente ma come stanno a prenderlo ma come stanno a prenderlo c'è gente per oggi si bravo bravo allora ragazzi quando guarderemo questo video in estate rimpiangeremo questi momenti no ma dobbiamo andare e siamo solo all'inizio purtroppo e se ci manda due ando fino a due ancora arrivare comunque siamo dopo a me come fa ok musica bella sei in una botta di ferro se corriamo ce la facciamo sono lei 19.03 l'8 aprile 2023 adesso dice no no vediamo vediamo la sfumatura vediamo la sfumatura la sfumatura vediamo la sfumatura la sfumatura prossima fermata a bigliano città andrea levato la lucazzo andrea andrea levato la lucazzo la sfumatura ci vogliono 15 minuti da ora non è una magia perché mi sparisce che mi ha fatto della situazione ma io ho detto è arrivato qua ha fatto angela ma mica si può topor la situazione mi sto messo male vado 12 o'clock midnight la sicurezza prima di tutto la sfumatura la sfumatura la sfumatura ma sia la sfumatura Grazie a tutti